Speriamo che per le prossime politiche c'è bisogno di essere rieletti. Come? Perché se c'è bisogno di essere rieletti uno deve guardarsi veramente intorno. E dove si guarda? Io mi sono sempre guardato tra i cittadini, tra la gente, sul territorio. Quindi fuori dai partiti convenzionali? Ah sì, fuori dai partiti. È panico tra i parlamentari, molti di loro temono di non essere rieletti o addirittura di non essere ricandidati. Allora ecco il fiorire di liste, listoni e liste civiche di vario orientamento pur di tornare a Montecitorio. Insomma serve una scappatoia movimentista al rischio di essere cancellati. Ognuno inventa qualche cosa, però chi inventa... E cosa ha inventato? Io ho inventato di rimanere nell'ambito del PDL con un mio movimento che del PDL porta avanti alcuni valori. Si chiama? Si chiama Movimento Cristiano Riformista. Lei rappresenta la lista civica dei moderati nel PD, è così? Io sono dentro il PD, io rappresento una lista civica che sono i moderati, i moderati del centro-sinistra che è la seconda forza politica del centro-sinistra in Piemonte. Però voglio dire questo che siamo lista civica da sempre, non adesso che vanno di moda le liste civiche magari per occupare un seggio al Parlamento. Uno dei problemi veri della politica è quello della frammentazione delle liste, il proliferare di partiti e partitini e del fatto che poi invece i partiti, quelli veri, quelli tradizionali, sono sempre più lontani dalla gente. Prendere il PDL e dividerlo per quarti. Farne un quarto di cristiano popolare, un quarto di ex annini, un quarto di animalisti, un quarto di ambientalisti. Chi più ne ha più ne metta. Lei rientrerà in Parlamento? Io in ogni caso in Parlamento rientrerò sempre, perché da ex parlamentare posso entrare quando voglio.